Repubblica di Cipro Revisit Customizing Tourism Il turismo, ormai inteso come intrattenimento e non come interazione locale, aliena la nozione di common ground in molte delle destinazioni turistiche. Resort, parchi a tema, catene di alberghi, mercato globale e guide della città lo hanno reso un monopoli viaggiante, con le regole uguali per tutti. L'approccio di Revisit punta al ripensamento del common ground fra visitatori e residenti per un nuovo modo di viaggiare e rapportarsi.